Allora Tony c'è un altro lavoro per te dobbiamo sostituire la lampadina quella che rimane accesa anche di giorno dai apri il cofono che sostituiamo sta lampadina ricordate da dove si apre il cofono dai hai tirato tutto tiralo più forte non si è alzato ok spingilo che lui si alza i pistoncini spingi 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 ok perfetto dai molla la vite bene ma adesso togli il supporto del faro il fermo del faro ok tira 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 perfetto e ritira il farino avanti piano piano ancora un po piano basta ora si possono entrare le mani e togliere la lampadina bravo dai togli il coperchetto della lampadina tira 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 toglilo ok ok perfetto bravo mettilo qua sulla macchina ok rimontato la lampada rimessi il faro a posto Tony rimette le vini Tony rimetti fermo dai ora che hai avvitato le vini mettilo bene dai che perdiamo il forno fino in fondo dai scaccia 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 tutto vediamo a farmi coprire dai ok perfetto bravo e la lampada è stata cambiata bravo Tony se qualche giorno un giorno poi incontrerà vedrete cosa dirà di bohengio 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 ciao ciao ciao